Ben trovati con l'informazione di Napoli News, apriamo il giornale parlando di cronaca. Beni per circa 52 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza e dal gruppo Carabinieri per la tutela dell'ambiente di Napoli, ai fratelli Casertani Giovanni e Michele Fontana, imprenditori nei settori del trasporto merci su strada e nella gestione dei rifiuti ritenuti dai pentiti legati alla fazione Zagaria del clan De Casalesi. I finanzieri e i militari dell'arma hanno messo i sigilli a quote e compendi aziendali di otto società, 120 immobili tra fabbricati e terreni e 6 veicoli tra auto e moto, bloccati anche i loro rapporti bancari e finanziari. Secondo gli inquirenti Giovanni avrebbe anche aiutato il narcotrafficante internazionale Raffaele Imperiale a nascondere in un deposito due container contenenti ben 600 kg di cocaina diretti in Australia e per i suoi servizi, secondo quanto dichiarato da Imperiale, Fontana avrebbe ricevuto un compenso di oltre 7 milioni di euro. Nel corso degli interrogatori resi dopo l'esecuzione della misura cautelare, Imperiale ha descritto altri traffici illeciti compiuti con la collaborazione dell'imprenditore liternese, due operazioni di trasporto dal Brasile, tra il 2008 e il 2010 di 6 mila kg di cocaina e in seguito tra il 2017 e il 2021 una decina di trasporti dall'Olanda. Aggrediva in maniera continuata la madre pretendendo da lei i soldi e arrivando anche a minacciarla di morte, un atteggiamento violento che ha spinto la madre, ormai stanca delle continue vessazioni, a denunciare il figlio ai carabinieri. I militari della tenenza di Pagani hanno quindi arrestato il giovane di 17 anni. Dalle indagini è emerso infatti che il minorenne, probabilmente tossicodipendente e in più occasioni avrebbe minacciato di morte la madre, la quale si è rivolta ai carabinieri di Pagani perché stanca delle aggressioni e richieste di denaro da parte del figlio. Il minore è stato dunque portato al centro di prima accoglienza su disposizione della procura per i minorenni di Salerno. Ascoltiamo il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio. Occorre che la famiglia si riappropi delle proprie prerogative, occorre che la famiglia ponga in essere dei comportamenti di vita, spesso succede che la famiglia, la mamma e il papà distratti dal vivere quotidiano si dimenticano dei figli e i figli poi vanno in valia dalle onde. Una vera e propria bomba sociale è l'allarme lanciato dal presidente dell'Associazione regionale dei costruttori edili della Campania Luigi della Gatta dopo il decreto legge approvato nel Consiglio dei Ministri che blocca la cessione del credito e lo sconto in fattura per i bonus fiscali per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione e di efficienza energetica. Una decisione che ha causato incertezza tra i proprietari di immobili e gli operatori del settore edile. Fondamentale, sottolinea della Gatta, trovare rapidamente una soluzione allo sblocco dei crediti incagliati. Grazie a questo fortissimo pressing che poi deriva da delle ragioni vere che sono appunto quelle della bomba sociale che potrebbe scaturire questo blocco improvviso dei bonus e questi crediti incagliati sui cassetti fiscali delle nostre imprese si è finalmente attivato un tavolo di concertazione al MEF. Probabilmente la soluzione che si andrà a individuare è esattamente quella che noi con l'ABI proponevamo da mesi, ovvero la compensazione in F24 direttamente presso le banche con una liquota che appunto il governo doveva definire. È un meccanismo che è abbastanza tecnico e anche difficile da spiegare ma che sicuramente è stato sviscerato dai nostri centri studi, dai centri studi dell'ABI e che potrebbe assolutamente soddisfare l'esigenza delle imprese che in questo momento hanno un fabbisogno di liquidità estreme e sono a rischio di fallimento. Sono 5 miliardi di crediti incagliati nella nostra regione, numeri importanti che devono far riflettere sul futuro. È assolutamente necessario definire in un orizzonte strategico di medio-lungo periodo un sistema di incentivazioni perché appunto l'efficientamento energetico costa, probabilmente non lo si riesce a fare esclusivamente con i soldi dei contribuenti e purtroppo è una strada tracciata in maniera diciamo perentoria dall'Europa e proprio della settimana scorsa l'approvazione della direttiva comunitaria sull'housing green, quindi voglio dire è una strada tracciata con degli obiettivi intermedi al 2030 e con un obiettivo al 2050. Rispetto a questa strada appunto da soli non ce la si fa ed è necessario che venga messo in campo un sistema stabile di incentivi da parte di questo governo e dei prossimi. E' corsa contro il tempo per demolire e costruire ex novo la tribuna autorità dello stadio Maradona di Napoli. In queste ore sono stati sbloccati i fondi per rifare il look dell'area adiacente alla tribuna centrale in vista del big match internazionale valevole per la qualificazione europei tra Italia ed Inghilterra in programma il prossimo 23 marzo. I lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre la data del 21 di marzo per garantire anche un sopralluogo da parte della FIGC e un collaudo della nuova area hospitality. La regione Campania garantirà 500 mila euro. Il restante importo di un milione e 500 mila euro sarà di competenza del comune di Napoli come spiega Nino Simeone, presidente della commissione infrastrutture. Dobbiamo farcela senza scuse, senza se e senza ma. Io avrei evitato questi lavori nella tribuna d'onore perché credo ci siano altre priorità da sistemare nello stadio San Paolo. Vabbè, chi l'ha scelto l'avrà fatto con le dovute accortenze, le dovute certezze. C'è da sistemare l'impermeabilizzazione della tribuna stampa perché ci piove dentro. C'è da sistemare alcune aree dove ci sono i portatori d'endicap che guardano la partita. Andavano fatte altre cose. Spero rientrino all'interno della spesa. E in queste ore sta tenendo banco un'altra questione che ha fatto storcere il naso a napoletani e tifosi. La statua di Maradona dell'artista Domenico Sepe, inaugurata in Pompa Magna il 25 novembre del 2021 all'esterno del settore dei distinti, è stata riconsegnata di fatto all'artista dal comune di Napoli. Per mesi quell'opera non ha trovato una collocazione. Oggi Palazzo San Giacomo spiega il perché della decisione di restituirla all'artista. Il valore della statua, si legge in una delibera, è superiore alle possibilità di spesa del donante. Inoltre, l'amministrazione ha spiegato che all'artista verrebbe garantita una visibilità che potrebbe risultare appetibile anche da altri artisti e dunque verrebbe leso il rispetto del principio di imparzialità. Brutta pagina. Se la potevano risparmiare, io non ho ancora capito le motivazioni. Capisco l'importanza che può avere una statua all'esterno dello stadio Maradona, anche dal punto di vista dell'immagine della città. Quella è una bella statua. Capisco che si voglia dare una lettura internazionale di questa statua. Quindi è giusto fare una promozione a livello internazionale, magari vedere chi propone le idee migliori. Però questa statua, che è stata in qualche modo già battezzata da alcuni amministratori di questa città, deve essere messa, non va restituita, va messa in qualche piazza. Magari troviamo una location dove possiamo sistemarla perché non è giusto. Bisogna rispettare prima le persone. Da Scampia a Ponticelli, da Fuorigrotta a Barra, passando per le centinaie di campetti, palestre e circoli abbandonati, inutilizzati e attualmente inagibili. Gli impianti sportivi di Napoli versano da anni in una situazione disastrosa. In molti casi si tratta di vere e proprie cattedrali nel deserto. L'onda lunga delle universiadi si è ormai esaurita e sono sempre più le piscine, le palestre, i palazzetti e i campi di calcio a non poter essere usufruiti dalla cittadinanza. Una situazione che stride con la candidatura di Napoli a Capitale dello Sport 2026, lanciata dal sindaco Manfredi. Il presidente della Commissione Sport, esposito ai nostri microfoni, chiarisce quali sono gli obiettivi del comune e come recuperare questi impianti vitali per le comunità, specie quelli delle periferie. Con Napoli Capitale Europea 2026 noi pensiamo di acquisire una maggiore attenzione da parte di Sport e Salute, da parte del CONI affinché si possano destinare maggiori risorse per la ristrutturazione di questi immobili. Se non ci riusciamo comunque l'obiettivo è quello di darli attraverso dei bandi pubblici per un lungo periodo, pensiamo intorno ai 20-30 anni, per consentire agli operatori sportivi di poterli acquisire e quindi poi ristrutturarli e fare sport. E in queste ore un altro argomento sta tenendo banco la possibilità della chiusura della palestra Maddaloni a Scampia. L'impianto che sorge in un edificio che inizialmente non era adibito a palestra, negli anni ha salvato tanti ragazzi del quartiere dalla strada e dalla rete della Camorra, ma è stato anche banco di prova per tanti ragazzi che hanno sbagliato e dal carcere sono stati affidati al maestro Gianni Maddaloni per riabilitarsi. Oggi il Comune chiede al maestro di giudo un fitto troppo alto che è incompatibile con le possibilità della palestra. Il Comune di Napoli sta cercando di trovare a breve una soluzione. Valorizzare, questo è il punto, tutta l'attività sociale e sportiva che ha fatto Maddaloni, ma così come tanti altri operatori sportivi, affinché si dia un valore economico a tutto quello che ha fatto Maddaloni a Scampia e si possa poi operare una sorta di compensazione tra gli importi, che certamente non sono quelli perché gli importi richiesti a Maddaloni sono fondati sul fatto che quell'impianto non è un impianto sportivo ma era un edificio a destinazione artigianale. Era questa l'ultima notizia del nostro videogiornale. Appuntamento a domani con la nostra informazione. Arrivederci. Grazie a tutti.